Oggi io e Ketto proveremo Fortnite ma su Gary's Mod, vi rendete conto? Dovremo anche costruire per scappare dai nextbot su pinnacoli pendenti, ci riusciremo? Restate con noi fino alla fine per scoprirlo! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Guarda il mio Spider-Man Non c'era bisogno! Maledetto, guarda che partiamo malissimo! Come avete potuto notare, oggi io e Ketto... Io e Ketto tenteremo l'impossibile giocando a Fortnite su Gmod! Levati, levati, levati! No, non vale che uccidi sempre me! Potresti levarti per favore? Possiamo iniziare? Vai, Ketto! Mi sono spezzato le gambe e già vedo qualche nemico! Piano, 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 piano! C'è tanta, tanta gente! Ma muoiono, sì! Oh, sento scusa! Muoiono, ma sì, imbecille! Guarda che ammazza anche te! Mi è venuta un'idea! Aspetta! Ok, credo sia morto! Spar, Lello! Spar! Ci sono altri! Scusa, 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 non volevo! Scusa, scusa, non volevo! No, 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 ce ne sono tanti altri! Quick, arrivo! Sì, tu vieni, ma c'è un piccolo problema! Credo ci sia... Cosa mi ha ucciso? Esattamente! Mi sono fatto leggermente male! Kat, Kat, vieni qua! No, 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 no! Arrivo poco! Ma è fortissimo! Ma che è? N'SCP! E niente, lui builda! Va bene, va bene! Scaramuro, scaramuro! Ok, piano, piano, come si fa? Eh, non lo so, Kat, cosa ti abbia ucciso, ma io sto buildando! Posso fare la scala? Sì, posso fare la scala! Eh, c'è un problema, un attimo, devo rompere questo! Levati! Ok, ok, molto piano, molto piano! Oh, ho preso l'iground! Oddio! Ho preso l'iground! Oddio, 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 oddio! È pericoloso, su! Eh, ho notato, sta andando a fuoco tutto! Oh, eccolo! E se voglio venire volando, cioè, no, volevo dire, costruendo! Sì, ho ucciso un'SCP a quanto pare, e qui c'è SCP 090... No, 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 non piangere! No! Ciao! Muori, muori! Chi è? Ciao! Ah! Che spavento! Scusa, scusa, non l'ho fatto apposta! Eh, Kat, qui sotto abbiamo un leggerissimo problema! Non mi li ricordavo gli SCP su Fortnite! Fuoco! Fuoco! No, no, va bene! Fuoco! Sì, sì, ricarico che a me c'è solo una munizione! Fuoco! Sì! Mi è venuta un'idea! No, non è buono! Eh, no, 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 no! Posso spiegare! Io non c'entro niente! Dove sono? Eh, credo mi abbia mangiato la testa, mamma mia, sei brutto però! No, no, sono nascosto! No, 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 no! Aspetta, mi sto facendo il chug chug! Muoviti, Spider-Man! Quanto ci vuole, muoviti! Mi sono un cecchino! Eh, sì, bravo! A me sta bevendo tutto il barile! Ce l'ha fatta! Ok, un altro cecchinato? Ma mi ha messo lo scudo davvero! Ok, piano, 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 piano! Mettiamo le scale! Fantastico! E adesso dammi le armi! Ok, ok, no! Basta, basta! Non devo costruire le case che sono diventato un agente immobiliare! Non lo so dove sono! Vai, vai! Prendiamo le ground sull'SCP! Ci vedo! Ah, sì, 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 sì! Arrivo, arrivo, arrivo! Una specie di tetto verso l'infinito e oltre! Dove è... Dove è l'SCP, Cat? Eh... Eccolo! Non prende danno! No, no, bro! Bro, non prende danno! Letteralmente! Qua! Non prende danno! No, 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 no! Non va bene! Ma io prendo danno! Eh, sì, io prendo danno! Mi sono rotto tutto! E sei morto anche tu! Aspetta! Aspetta! Oh, oh! Vai, 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 vai! Ok, ok, altri 103! Ma morirà prima o poi sta bestia! Eh, dai! Vatti gli sceldini! Vai! Sì, vedo un'altra arma nel mentre! Sì, sì, ok! La puzza! Di fucile a pompa! Con le grano di puzza! Sì! Non vado di buttare! L'hai distratto! L'hai distratto! Sì, sto morendo pure io! Devo uscire! Devo uscire! Sì, è fermo perché l'hai distratto! Si sta impuzzonendo! Che gli hai caccato in testa! Ma che schifo! Vai! No, 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 no! Mi sta guardando! Io non ho fatto niente! Io! Io non c'entro niente! È stato lui! Prendi lui! Prendi lui! No, Cat! Ti sta colpendo l'SCP! Cat l'SCP! No, no! Eh... Forse non sono troppo bravo a mirare! Ma se io volassi dietro Cat... Cat... Eh... Scusa, permesso... Vado via! Vado via! Sono volato direttamente dentro l'SCP! Ma ti rendi conto? Ma quante armi? Quante armi abbiamo? Abbiamo la Infinity Blade! Ah, sì, vero! Sono pazzo! Sono pazzissimo! Dov'è quell'imbecille? No, no, no! Non funziona! Non funziona! Mi ha tirato uno schiaffo! Ammali estremi! Estremi lancia granate leggenda! Un attimo, vai! Bomba! Sì! No, no, va, va! Gli sto facendo più di mille di danno! Vai! Sì! Sì! Pure io più di mille! No, non muo... Sì! Io uccisi tutti! Pensa quando arriveranno i Nextbot! Che dovremo scappare! Mamma mia! Non vedo l'ora! Fatevi sotto! Abbiamo ucciso un vero SCP! Non ci fermerete! Mai! Eh... Cat, guarda che ti ho visto! Dove stai andando esattamente? Guarda che adesso... Prima di Nextbot... Ah! Prima di Nextbot! Non finirò in galera! Era sì! Dicevo! Prima di Nextbot dovremo sfidarci in un uno contro uno! Sei pronto? Ma già ho vinto! Non era adesso imbecille! Dobbiamo ancora iniziare! E se proprio dobbiamo dirla tutta... Siamo pari? Uno a uno! Allora sei pronto per questo 1v1? Potremmo usare solo il pompa? Sì! Quello del nonno e le costruzioni! Allora! 3, 2, 1... Via! Via, 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 via! Aspetta, 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 come si fa? No, no, su questo gioco è leggermente complicato! Ok, vediamo se mi ricordo ancora! Non mi ricordo più! Non mi ricordo più! Dove vai? Dove vai? Pazzo! No, 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 fermo! Aspetta! Oh! Ti ho colpito! Credo! Io? Punio? No, 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 no! Come si builda? Come si builda? Aspetta! Non, non c'ho builda! Non c'ho builda! Non c'ho builda! Aiuto! Aiuto! Dove? Dove sto andando? Aspetta! Sto impanicando! Sto impanicando! Dove si? No, sto impanicando! Papà! Papà, sto panicando! Io giocavo a Fortnite così, caccandomi addosso! Allora, piano, piano, allora, fucile a pompa Sei ancora vivo? Ok, riprendo le costruzioni, perfetto Aspetta, si mettevano i muri? Sì, si mettevano i muri qua Ok, mi sono coperto Tu non mi prenderai mai qui sotto Ho fatto una... Non è vero, era un grosso scherzo Fammi riprendere il fucile a pompa Aspetta! No, 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 no No, no, no Sono fortissimo Gigi, è stata bella però Mamma mia, è stata una bellissima partita Partita, mi sono spezzato le gambe Che ne dici di giocare in casa tua questa volta Perché io sono molto più forte col pompa Usando il cecchino Perché qualcuno mi ha detto Che tu con il cecchino sei leggermente più bravo Ti va? Ok Nel dubbio zoom Ed è così che si sfidano con i cecchini I veri giga chad Tu sei pronto? Io sì, tantissimo Che la battaglia solo cecchini Abbia inizio Questo è tipo un allenamento Potresti smetterla di fare così E mi metti ansia Questo è tipo un allenamento Per quando poi giocheremo contro i next bot E smettila di spararmi Brutto infa... Suu! Che la battaglia inizi! Eh, sì Però io sarei morto Dammi un attimo Adesso devo stare praticamente Attentissimo Dov'è quell'imbecille Già mi sto cagando sotto Suu! Vabbè No, no Aspetta Non è possibile Io chiedo il VAR E chiedo di ripetere Perché non ti ho neanche visto Ma guarda te Questo è impossibile Con il cecchino E dieci volte Più forte di me L'ho visto Stavolta ti ho visto Inbecille Stavolta Ti ho visto No, non mi Ah, ah, ah Ok, vedi? Adesso le cose sono leggermente più serie Però questo fucile C'ha solo Una munizione Aspetta 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 Ti ho visto Ti ho visto Dove sei? Ok, ok, ok Le cose si fanno molto più interessanti Ok Eh, sì Adesso No, no, no Ma quale sono tu Sei mio! Sì! Va bene Almeno questa volta accetterò la sconfitta Maledetto Spider-Man I'm a banana I'm a banana Eh, eh I'm a cat No, no Ma dai Ma ti sei messo la skin del gatto Ma perché? Mamma mia Mamma mia Credo di essermi fatto leggermente male Siamo scappati sull'ultimo piano della torre più alta di pinnacoli pendenti Perché a quanto pare sotto di noi si è riempito di Nexbot e mi sto calcando addosso Sì, è pieno di Nexbot ma proveremo ad ucciderli Sei pronto? Sono, sono pieno Oh, calmo Ma saura se ci sono? Eh, sì che ci sono, non li senti No, in questo momento no perché sto sparando Senti? Fanno rumore Ora ho sentito Adesso Cat, segui me Aspetta che sono buggato Proviamo ad uscire Ok Avendo l'iground come su Fortnite loro non dovrebbero Prenderci mamma mia Senti che bordello Non dovrebbero No, eh no Non dovrebbero Oh mio Dio Oh mio Dio No, 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 no non ho chiuso entra entra o mio dio sono caccato addosso guarda lì guarda lì salgono sopra sto cercando di vildare su tutto pinnacoli pendenti non ti fermare mai il da pisa non ho stavo cadendo stavo cadendo bilda 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 noi dobbiamo dare modo di prenderci c'è un po di cosa qui sì sì anzi bilda in ferro bilda in ferro non ci prenderanno mai spostano spostano che stanno spostando un cane ha ucciso un cane ma com'è possibile sta a diventare sbaglio corro 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 salta 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 seguitelo no 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 non seguitemi niente o bunga mio dio è morto anche cat mi sa che qui ci vuole un piano ben preciso di le video bunga stai dando fastidio che presto ho trovato un nascondiglio buttati nel buco non funziona buttati nel buco non posso non è neanche io avevo trovato un nascondiglio perfetto voglio scoprire cosa c'è ecco sotto quel buco quindi per favore uccidiamolo dentro ma non c'è niente come non c'è niente aspetta 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 no 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 arrivo arrivo piano 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 mi sto cacando addosso mi sto cacando addosso aspetta aspetta ok ok sono dentro no no è pieno di nexbox attento c'è un nexbox aia ok la scritta fortnite l'ho vista e sono finito dentro un cesso aiuto va bene vediamo se come contro i giganti funziona no 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 non funziona niente e ho notato mi sa che è un imbecille mi hai ucciso tu ma ti rendi conto mi sa che il nostro destino su fortnite ma su gmod è quello di morire per mano dei nexbox no 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 ucciso da un capibara no al prossimo video prendete anche cat veloci no dai dai uccidetelo ecco adesso va meglio si um non stai guardando la mia telecamera